ragazzi sono jonathan o mio dio ora non me la sento di fare il saluto va bene lo faccio ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze io sono jonathan e ben ritornati in questo nuovo video nella vita reale ben ritornati anche nella vita di noi con voi con te eccola intro contenti in pratica oggi dovevamo fare gli altri tre episodi però siccome c'è un altro che non volevamo fare quindi perché c'era la batteria scarica quindi oggi dove ne dovevamo fare quattro però il problema è che ismaele non lo vuole fare perché stanco ora questo nuovo video messaggio avrete capito bene cioè adesso adesso io ho deciso che cioè siccome se noi facevamo qua i quattro episodi poteva finire la serie c'è poteva finire la prima stagione dopo iniziava la seconda fino alle altre nove perché in tutto ne devono essere dieci perché siccome la serie di dinosauri è bella però non sappiamo che serie dobbiamo fare quindi scusate quindi in realtà abbiamo deciso che noi il venerdì l'altro venerdì il prossimo venerdì usciranno questi tre vi usciranno tre video invece mercoledì che vi ho detto ne usciranno uno quell'uno quel quinto che doveva uscire e si è vero una tempesta di sabbia o mio dio vabbè se vede il film o mio dio come si dice comunque nel adesso ecco l'outro cioè il saluto finale nel frattempo meglio che finisca quel video è meglio che lo aspetta prima mettete il like perché non non mi mettete mai like se vi siete iscritti dovete mettere il like è perché ogni ogni fan che si iscrive deve mettere like no è normale ho tutti i fan che sono iscritti devono mettere like no comunque comunque stavo dicendo che aspetta cosa stavo dicendo cosa non mi ricordo che stavo dicendo aspetta non mi ricordo oh mio dio vabbè ecco nel frattempo vabbè iscrivetevi vabbè ok nel frattempo e nel frattempo è meglio che finisca quel video è meglio che lo chiuda e da me jonas vanis e ismael vanis e joel vanis che sia che sono in noi con voi con te insieme però in teoria ora ci dovrebbero stare vabbè ora ecco l'altro ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze finis vi endis o contenti dell'altro ma non serviva la torcia oh mio dio ciao